Tre impianti e 130 tonnellate di materiale elettronico sotto sequestro, 25 denunce, multe per 70.000 euro. Si è conclusa così la maxinchiesta sul traffico di rifiuti elettronici, partita da Cortona ma poi estesa al resto della regione toscana e alle Marche. L'indagine della procura di Arezzo, denominata Electronic West, è stata portata avanti dai militari del nucleo investigativo di Arezzo e da quelli del nucleo operativo ecologico di Firenze. Le indagini sono partite dalla periferia cortonese dove all'interno di un capannone apparentemente abbandonato due persone avevano allestito un'attività di gestione dei rifiuti RAE. Il controllo dei militari dell'arma ha consentito di accertare la completa assenza di autorizzazioni per le attività svolte portando al sequestro dell'impianto e dei rifiuti abusivamente gestiti e alla contestazione di violazioni sia penali che amministrative connesse alle norme in materia di tutela della salute dei lavoratori. Le indagini poi hanno portato ad individuare anche il coinvolgimento diretto nell'attività illecita di un'azienda retina attiva nel settore del recupero di metalli preziosi che aveva ottenuto un'autorizzazione ambientale come intermediario nel commercio di RAE senza detenzione. In realtà però i titolari dell'azienda avvalendosi sia dell'attività svolta all'interno dell'impianto abusivo cortonese che della compiacenza di una ditta di trasporti e di almeno altre due società retine con specifiche autorizzazioni ambientali per il trattamento dei rifiuti aveva allestito all'interno dei propri locali un'attività abusiva di gestione e commercializzazione dei rifiuti. Anche in questo caso sono scattati i sigilli per l'azienda. A conclusione delle indagini sono state denunciate in tutto 25 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di falso gestione e smaltimento illecito e deposito incontrollato di rifiuti RAE e plurime violazioni del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati inoltre sequestrati tre impianti di trattamento rifiuti due dei quali completamente abusivi, tre veicoli utilizzati per le attività illecite ed infine 132 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Sono state infine combinate sanzioni per 70.000 euro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.